Dopo la piantumazione di 200 alberi in Contrada Zai, il Rotary di Gela si fa promotore di un'altra iniziativa per la città e la salvaguardia ambientale. Collocato il noto pesce Mangia Plastica, una installazione che funge da contenitore per la raccolta appunto della plastica. Il Rotary lo ha fatto installare nel piazzale del liceo delle scienze umane dopo un'intesa raggiunta con il dirigente scolastico Maurizio Tedesco. Per noi naturalmente è un ulteriore spunto di riflessione perché certamente sarà l'occasione intanto di poter riflettere in continuazione perché certamente questo resterà un simbolo nella scuola che testimonia questa sensibilità e questo interesse nei confronti, nelle tematiche ambientali e quindi un ulteriore momento di riflessione. D'altro canto si colloca nelle attività che svolgiamo già normalmente nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, nell'ambito dell'insegnamento trasversale di educazione civica e quindi è un'occasione in più per poter riflettere sull'importanza dell'utilizzo delle risorse naturali. L'installazione, presente già in diverse altre città, è stata inaugurata questa mattina. Il Rotary non è comunque nuovo a queste iniziative di tipo sociale. Certamente l'ambiente va curato sin dall'inizio, cioè quando uno è studente, cresce con una mentalità del rispetto dell'ambiente. Questa è la parte principale dell'uomo, se vuole salvaguardare il nostro pianeta. Si fa tanto per l'inquinamento, si fa tanto per il riciclo. Anche il Rotary fa la sua piccola parte di donare questo pesce mangiaplastica che nasce nell'anno 2019-2020 con il presidente del Rotary che mi ha preceduto, Ugo Granvillano. Il nostro club di Gela particolarmente ha trattato quest'anno l'ambiente. Di fatti abbiamo già piantumato più di 200 alberi, incontrata Zai e evidentemente piantumare gli alberi ha un effetto sull'ambiente. Poi un'altra importante attività del Rotary è la continuità. I presidenti passano ma il Rotary resta e agisce appunto nel sociale. Studenti e insegnanti possono così parlare di ambiente partendo da un oggetto simbolico ma anche pratico. A scuola abbiamo appunto trattato di queste problematiche appunto per consapevolizzare gli studenti dell'importanza della tutela e dello sviluppo ambientale. Abbiamo affrontato alcune problematiche quali l'antropizzazione, i cambiamenti climatici, lo sviluppo sostenibile e l'acismo di Greta Thunberg. È ovvio che noi dobbiamo lasciare alle nuove generazioni un pianeta sano perché loro lo rideteranno da noi ed è giusto che diventano consapevoli di azioni concrete e al tempo stesso si facciano promotori del cambiamento.